Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua perchè sono riuscito questa mattina alle 10.27 a superare il livello Quello che non riuscivo a fare è dello scoppiare il palloncino giusto per uscire dalla casa e andare in città Sono entrato io ho già dato un'occhiata alla città questa è la casa molto rovinata come vedete Anche fuori dalla città c'è sempre questa nebbiolina A me mi sembra sempre che la casa si muove raga Comunque siamo liberi di uscire e andare nella città Eccoci qua vedete c'è sempre tutta sta nebbia Death Park The most fun place in Farlands Is waiting for you Di qua non possiamo andare perchè è chiusa la strada I cartelli sono illegibili E su questa casa c'è un biglietto che io non ho letto Caro Ralph Non è più possibile nascondere la verità I risultati della prima fase non hanno soddisfatto le aspettative del comando per ordine del generale Abbiamo progettato e testato un amplificatore per la tua tecnologia Dopodiché tutto è andato fuori controllo Centinaia di persone innocenti sono morte a causa nostra La sofferenza di Lily e Charlie è anche colpa nostra Perdonaci per tutto non ce la facciamo più John e Mary Non possiamo entrare in questa casa Quindi dobbiamo Non lo so Ah guardati intorno per chiedere aiuto Ed eccoci qua siamo arrivati Attenzione è stata comunicata l'evocazione Tutte le pattuglie devono abbandonare immediatamente la città Tutte le zone di Farlands Sono piene di mostri Di qualche specie Probabilmente qualcosa Vabbè Poi i militari stanno portando via gli ultimi superstiti Dall'ospedale della città Perché sono rimasti quasi più medicinali Ok Qua abbiamo una mappa quindi Ok E questa ci potrà essere molto utile Quindi noi siamo Dove stiamo noi Ah ecco Noi stiamo qua Siamo questo puntino E non funziona il multitouch Su sto gioco Cioè in questo menu No su sto gioco Noi siamo in via Rosemont LN E non so cosa dobbiamo fare adesso Quindi Prendi una carta in mazza Dal baseball Qua abbiamo Vabbè A parte la mazza Io volevo prendere questo E non posso più switchare arma Buh Vabbè C'è un mostro E sto morto Ma guarda se muore questo Sto stronzo di merda Ma io dove devo andare Vai all'ospedale Ecco fatto Alla mappa Allora Io vado dritto Vabbè Andiamo in via Carlo Vabbè Ancosa legge Comunque questa davanti a noi Dobbiamo procedere dritti Ecco qua infatti Conviene andare dritti In via Rosemont Questa qua No penso che questa Via Rosemont Possiamo switchare arma Mica muoio Secondo me ci muoio Tra l'altro basta un colpo Meglio se me curo Qua c'ho il 74% De vita Di qua c'è il death park Quindi Che però è ancora bloccata La strada Noi dobbiamo andare quindi In via Carlo 11 ST Per andare Verso l'ospedale Non si vede un cazzo Applico la massima pressione Per avviare lo spegnimento Mi ricordo che quel camion Ci dovrebbe servire Allora Vediamo un attimo Addo stiamo Ok Noi dobbiamo procedere dritti Quindi Questa dovrebbe essere via Santa Cir E noi dobbiamo procedere Quindi Possiamo Sì Possiamo procedere Possiamo procedere Questa Questa Ancora dovrebbe essere via Carlo 11 Carlo 11 ST Sì L'ospedale dovrebbe essere di qua Volevo prendersi così Dobbiamo stare attenti Io cerco di curarmi Allora Dove cazzo stiamo Dobbiamo andare ancora dritti Guarda ogni mostro È una sofferenza Comunque siamo arrivati All'ospedale Sento Dei rumori Ho trovato il fucile a pompa Intanto Farland City Hospital Ma cazzo Bastardo di merda Non possiamo accettare tutti A causa di circostanze straordinarie Il farmaco sperimentale HZ-3 È osaurito Si prega di non interferire Con il lavoro del personale Beh possiamo entrare In teoria Sì Io mi dovrò guardare Degli annunci Qua per il livello Per andare al livello successivo Quindi ci vediamo più tardi Ce l'abbiamo fatta Siamo entrati nell'ospedale Dobbiamo solo ispezionare Porca puttana Porca puttana Porca puttana Troppi pazienti Troppi pazienti L'HZ-3 Sta finendo Ti chiedo di darci la riserva Che hai ricevuto dai militari Le persone muoiono troppo In fretta E iniezioni di HZ-3 Almeno ci fanno guadagnare Un po' di tempo Consulta Urgentemente Il primario Dell'ufficio 217 Forse questo farmaco Aiuterà anche Lily Trovo l'ufficio del primario Una parola Scale di ricambio Qua sta Un ascensore Mezzerotto Chiuso a chiave Ascensore Di servizio Ok Serve una chiave Quindi per questo ascensore Io dove devo andare Dove sta a camminare Il mostro Ovviamente Madonna Devo ricaricare Bastardo Non ce l'abbiamo Le munizioni Abbiamo finito già Le munizioni Spero che anche I mostri Siano finiti Eh no In teoria Ce l'abbiamo Le munizioni Però Non so perché Non mi fa ricaricare Sono riuscito A ricaricare Per fortuna Beh qua vedo Che non c'è niente Altre munizioni Stephen Dorsey Età 56 Di anesi Psicosi Acuta Allucinosi Al momento Del ricovero Riferì Di un incontro Con i morti Rianimati Al cimitero Dove Lavorava Come guardiano Estremamente Agitato E' stato eseguito La torre Di seduzione Condizione Moderata Non ci sto capire Niente Da sto gioco Quindi qua Non c'è la stanza Del primario Non ho trovato Niente Però Né chiavi Né niente Infatti C'erano Ancora Qua Nel cesso Da guardare Siamo No Un rumore Sta porta Qua Non siamo Andati Sì Sì Ma non vedono I chiavi Questa dovrebbe essere L'ultima porta Ecco la chiave Infatti Questa è una chiave Per le scale Libere Ah Non è quella Dell'ascensore Di servizio Vabbè Almeno Qualcosa Prendiamo L'ascensore O le scale Qualcosa Ci abbiamo Ok Queste sono le scale Madonna Che scale Di merda E qua Ci dovrebbe Stare E qua ci dovrebbe Stare Qua non possiamo Andare Questo è Scensore Rotto Ce ne sono Altri Io direi Di vedere Prima qua Ma non c'è Niente Quindi dobbiamo Andare Forza Andavanti Qua che C'abbiamo Una sola Operatoria Qua Qua c'abbiamo Altri Munizioni No Ok Un kit Di soccorso Mi fa Strano Che qua Stanno Le porte Aperte Vedo se Riesco A prendere Sto Cosa Acqua Questa Vabbè Ma non è qua Che dobbiamo Fa Trovo L'ufficio Del primario Ok Già Si sentiva Raga Quindi non mi sono Spaventato Più De tanto Che Qua stanno Tutte le porte Chiuse Questo Deve Essere L'ufficio Del primario Allora Infatti Ed ecco Il palloncino E io direi Di chiudere Questo video Qua Abbiamo trovato L'ufficio Del primario Trovo un modo Per raggiungere L'ufficio Del primario Io direi Di uscire Quindi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lascia un bel mi piace Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Ciao 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 Ciao